Bella a tutti ragazzi e bentornati sul canale vi sto facendo questo piccolo vlog per dirvi che domenica 28 giugno ci sarà un raduno al centro commerciale di Roma Nord del Porte di Roma Venite in tantissime ragazzuoli perché dovremo fare esplodere quel fottutissimo centro commerciale Sia io che Destin ci andremo, farò un video là in cui faremo le peggio cose, i peggio macelli Dovremmo andare in giro per il centro commerciale a spaccare i culi a tutti quanti Tutte quante le informazioni di questo raduno ragazzuoli ve le darò un po' più in là perché ancora non so assolutamente l'ora Non so assolutamente dove si farà precisamente nel centro commerciale Penso di immaginarlo nel senso che fuori c'è un palcoscenico dove in questo periodo stanno facendo varie cose E quindi presumo che si faccia lì però non so assolutamente niente ancora Tutto ciò ragazzuoli ovviamente avverrà se io non avrò gli esami il lunedì 29 perché io sono ancora sotto esami Non so ancora assolutamente quando avrò gli orali Se li avrò lunedì 29 mando a far culo il raduno perché essenzialmente preferisco studiare invece che venire al raduno Ma non per colpa vostra ma perché essenzialmente voglio finire il liceo e non voglio che mi bocciano all'orale Quindi sulla data del mio esamorale, sull'ora e sul posto in cui si farà il raduno Vi farò sapere prossimamente nei prossimi video, nei prossimi vlog, quello che cazzo vi pare Ci vediamo alla prossima, bella! Ciao!